Allora, la signora si chiama Gheula, vive a Natania e quest'oggi ci presenterà, dalla Cucina Tripolina, un piatto raro, quasi in estinzione. Le As Van con la Cucla che adesso andiamo a vedere. Olio, riso, sale, aglio tagliato a pezzetti, cannella, pepe nero. Abbiamo già tagliato la cipolla a pezzetti, il coriandolo, il prezzemolo e l'aneto in abbondanza. Questa è la cia e i anche il ci calz. Il d'abbiamo la cia, gli r quil e la cia e gli mau. Il ci lie factory è non l'abbiamo. Abbiamo a mettere i pescetti. Ci solo mettere e mettere qualche di acqua. La cia, le mettere un pollo di metà, mettere le mettere. Che usare l'e lla m'è, mettere il cuore l'ho, mettere il cuore le mettere e cuore l'ho, mettere le mettere il cuore, mettere il cuore l'acqua, mettere i cuore l'acqua. Ma non ci spessi. Frifur, mettere il cuore l'acqua e scato. Alla prossima è la prossima. E questo pomodoro concentrato, un cucchiaio. La salsa di asbane, questa è la quantità per fare le asbane e il ripieno che andremo a fare, l'intestino ripieno. Questo è il polmone, questo è il cuore, questo è il mfaes. E questa è la carne di testa. E anche il halgum, il halgum. Il cibo di riciclione, il cibo di riciclione, il cibo di riciclione. La città è la città della città della città della città. Ora mettiamo un bambino 1 e 1 Non abbiamo la bambina ma ma di più Ma non è più grande ma ma di buona Non mettiamo un bambino Non mettiamo un bambino E questa è una grande maggiore Un po' che non è un po' che mi piace E' un po' che non mettiamo E' un po' che non mettiamo E mettiamo un po' di pizzo Zot e mettiamo un po' di più E' un po' che mi piace E' un po' di pizzo e buttiamo un piaccio di fulfero e mettiamo un piaccio di fulfero Non è bene, e un poffanzante lo fate la passione di fulfero dopo aver installato le fulfero aggiungo il tutto quello che ci sòl era il tutto il pezzo questo è un pezzo. questo è un pollo che ha deciso di amera La ricetta è rivalita nel bianco. Siamo a preparato la ricetta con quel ciò che fai två pelle. C'è un buon olasso, il rischimento delle cani ed che giriamo? La ricetta è una ricetta, questa ricetta è la ricetta è un pollo, e le facciate la ricetta. C'è un pollo ma non è un pollo non le ricette di mangiare l'occhio. è una piccola piccola E in Italia? No, va bene. xixir, va bene? Xixir, non aspetta bene. Lo si lega dai due estremi Voi fare una tavola. Poi farò la più di la vostra, scusa la bicicletta. No, ma non è il nostro carattolo. Ah, è il carattolo, io non è orato? La città è la città del bambino e la città del bambino. che abbiamo usato ci ha fatto fare in tutto 12 ripieni più l'intestino ripieno ma questi non li usiamo in pentola per adesso li lasciamo per dopo continuiamo con il nostro filmato solo con le 5 a smane abbiamo qui circa 150-200 grammi di grasso macinato dove mettiamo un cucchiaio di aglio tritato una punta di cucchiaio di pepe nero mezzo cucchiaio di sale un pochino di acqua, appena un cucchiaio o due di acqua aggiungiamo una due e tre uova a seguire mischiamo tutto mettiamo anche un cucchiaio di paprika dolce mischiamo il tutto molto bene aggiungiamo intanto la semola, un cucchiaio, una manata e allora abbiamo messo qui la quantità che viene assorbita più o meno adesso circa 250 grammi di semola e anche un po' di più forse 300 grammi di semola evitare il grasso usano mettere la cipolla a pezzetti in sostituzione e anche l'amF io ho messo tutto in pentola e sono le 12 meno un quarto il vero trucco della cucina tribolina è il fuoco lento aggiungiamo sopra quando saranno tutte le patate sarà cotto tutto abbassiamo un po la fiamma e giriamo ecco l'operazione eccoci sono le due meno un quarto e tiriamo giù la pentola prezzi sono le mie con sacri d'asbordate sette un dono Vai, vai. Ora stiamo? Ci sono i biselli. Mureoli a caldo. Aida. Mucale. Iniziamoci fatta ai dagli ulam d'ora. Resta si impegna a togliere prima il filo. Vediamo. Buon appetito. Speciale. Veramente speciale. Una cosa tradizionale di tanti anni fa. E' buonissima. Vogliamo assaggiare la cucla anche? Si. Buonissima. Buonissima. Buona. Buona. E poi non ne manca niente. Tutti gli ingredienti che stanno dentro. E molto molto bene. Buon appetito. Buon appetito. A presto. Poi. Buon appetito. person.